Ai ai ai, ai ai ai, quest'oggi andremo a parlare di un qualcosa che non dovete fare se non volete finire bannati su Brawl Stars Quindi mi raccomando ragazzuoli non fate i monellacci Prima di iniziare però a parlare di questa cosa molto importante, dato che comunque si ho iniziato un po' scherzosamente Però in realtà stiamo parlando di una cosa seria E prima di iniziarne a parlare ovviamente vi ricordo di supportarmi nel negozio di Brawl Stars col mio codice creatore GGYT tutto attaccato Mi raccomando inseriterò anche tutti gli altri giochi Supercell per supportarmi Grazie a vero di cuore per il supporto appunto Mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto E oggi parleremo in particolar modo della Lega delle Stelle Andiamo a startare una partita sperando che troviamo gli avversari che vogliano continuare a giocare E adesso aspetterei un attimino all'inizio del game per spiegarvi per bene che cosa sta accadendo Allora la nostra squadra ha deciso di bannare Piper La squadra avversaria non lo sappiamo Ok Sandy va bene ci può stare Vediamo un attimino i nostri compagni che cosa scelgono Io tra l'altro sarò il secondo a scegliere dopo la doppia scelta nostra Anzi no adesso ci sarà una nostra doppia scelta E' andata di Penny Scegli un brawler e io direi che in questa mappa potrebbe workare abbastanza bene Boh non lo so regà un broccolo Direi Brock regà dai Diciamo un Brock Vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare con un Brock Forse era meglio un Colt adesso ci penso Però tanto alla fine della fiera avevamo già Penny Quindi magari ho preferito prendere un Long Vediamo Alex che cosa andrà a scegliere E vediamo ragazzi se durante questa partita ci sarà qualcuno Che fa questa cosa per cui si rischia il ban Vediamo ragazzi che cosa succede Allora innanzitutto scegliamo Sia abilità stellare gadget direi che ci siamo Vediamo se inizia il match Io ovviamente ho i due compagni che non hanno i brawler maxati Mentre gli avversari sono tutti maxati No ok ragazzi la partita è iniziata Non è successo nulla di strano Perché vi dico ragazzuoli che Brawl Stars ha annunciato ufficialmente Che tutti quelli che Diciamo Come posso dire Rifiutavano di giocare determinate partite Perché non so se lo avete visto Se vi succedeva Ma ogni volta che qualcuno provava a giocare In Nella Lega delle Stelle Qualcuno che quittava i game C'era sempre Ok comunque io ho vinto la mia lane contro Due tre brawler I miei compagni non sono riusciti a tenerne nemmeno uno 8 bit con 6 di vita Ma che sfiga Ora tra poco vi faccio leggere Proprio il tweet ufficiale Di Brawl Stars Italia Ma ovviamente c'è stato anche quello Di Brawl Stars mondiale Diciamo così Perché effettivamente Stava diventando un problema ragazzi Praticamente se a te non andavano bene Quelle mappe Che veniva Quella mappa anzi Che veniva scelta per giocare la partita Molta gente Quittava direttamente il game Ma era diventata una noia Perché praticamente si giocavano sempre le solite mappe Sempre i soliti brawler Sempre le solite modalità E praticamente si quittavano sempre e solo Le stesse modalità E le stesse mappe Invece così ragazzi Con questa minaccia Di Supercell Che comunque spero che Non sia solo una minaccia Per mettere paura A chi quittava le partite Spero sia effettivamente Una minaccia reale E che effettivamente Poi vadano a bannare Tutti quelli che decideranno poi Di quittare i match Ma comunque raga Conoscendo Supercell Non credo sia una minaccia Così tanto per farla Cioè credo che sia effettivamente Una cosa seria Cioè nel senso Se effettivamente andranno a beccare qualcuno Che quitta le partite Perché le vuole saltare Eh raga Eeeh Li andrà a bannare banalmente Li bannerà E via Comunque raga La partita Peggiore della storia Tra l'altro io neanche avevo fatto caso Che avesse scelto tick In una mappa del genere Cioè prima avevo visto Che era stato scelto un tick Tra i miei compagni Ma io non stavo ripensando Alla mappa in cui stiamo giocando Cioè questo qui ha scelto Tick in questa mappa Cioè penso che Tick in questa mappa Non c'entra assolutamente nulla Però Eeeh Va bene così Ovviamente adesso Non possiamo neanche cambiare I brawler Non possiamo cambiare la comp Non possiamo cambiare Nulla E direi ragazzi Che vedremo un po' Una copia Della partita di prima Comunque ragazzi Appena finisce il match Vi stavo dicendo Vi vado a far vedere I tweet ufficiali Anche perché adesso Molti voi staranno dicendo Sì ma Gigi A me quitta la partita Perché purtroppo Ho la connessione Che va male Regà Mi due a le dirlo Ma a Supercell Della vostra connessione Non frega nulla Ora Io non so Se dà ragione A Supercell Oppure mi sembra Una cosa un po' Esagerata Però effettivamente Se ci pensate bene Non può fare altrimenti Supercell Cioè praticamente Dopo vi faccio leggere bene Anche il tweet Di risposta Perché Supercell Ha proprio risposto Ad un player Che ha chiesto Sì Supercell Ma se a me va via la connessione E mi quitta dal match Che cosa succede? Supercell gli ha risposto Che se non avete la connessione Adeguata Per giocare La Lega delle Stelle Regà Vi dovete giocare Un'altra modalità Dovete giocare Un'altra modalità E non giocare La Lega delle Stelle Ha risposto proprio In maniera secca Ribadisco Non me sto inventando niente Dopo vi faccio vedere Gli screen dei tweet Vi faccio vedere Tutto quello di cui Vi sto parlando Adesso ho provato Un attimino A concentrarmi Per questa partita Regà Ma io più che vincere La mia lane Non è che posso Star qui a fare Cioè io la mia lane L'ho sempre vinta Allo start della partita Ma i miei compagni Ovviamente no Ma perché hanno sbagliato Diciamo la scelta Dei brawler Perché Tic Mi Cioè Non puoi usarlo In sta mappa O comunque Se lo puoi utilizzare Lo devi utilizzare Resolenti in maniera Differente L'altro mio compagno Ha scelto Penny Che vabbè Anzi Penny Ci può anche stare In questa mappa Ci può anche stare Io ho preso un long Dico magari provo A fare qualcosina Ma Evidentemente no Non mi arrenderò Finché non Non vedrò La sconfitta Scritta sullo schermo Eh sì Lo so che ho lasciato stare Il robottone Ma perché tanto ormai I suoi danni Li stava facendo Io Eh niente Siamo Che cosa sta succedendo Dov'è andata la Penny Che cosa ha fatto la Penny In alto Esattamente Ah io provo A prendermi No Corri Tic Ma prendi i bulloni Tic No È arrivata l'altra ambra Eh niente L'ha fatto fuori Niente regà Il Tic Oltre a non centrare nulla In sta mappa Non sta facendo Assolutamente nulla Non ha fatto Uh Eh ma mi uccide lui Eh mi uccide lui No Ok grazie alle pozze Sono riuscito a ucciderlo io Ma ovviamente questo Non ha cambiato Assolutamente nulla Provo a fare un po' di danno Ma niente Mi sono anche fatto scoprire Ragazzi Pessimi 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 Davvero pessimi ragazzi Ma va bene così Comunque Detto questo Ecco i tweet Di cui vi stavo parlando E già ne avevamo parlato In un po' di video fa Io lo dissi immediatamente La prima volta Che provai Lega delle Stelle Se Supercell Non prenderà dei provvedimenti Per tutti quelli Che quittano Dalle partite In cui ci sono Delle mappe O delle modalità Che non gli piacciono Sarà un problema Supercell Ci ha dovuto mettere le pezze E devo dire Che ci ha messo Delle pezze Abbastanza grandi Perché appunto È arrivato a fare Degli annunci ufficiali Del genere Dove dicono Che banneranno E non solo Dalla Lega delle Stelle Ma in generale Dal gioco Tutti quelli Che usufriranno Delle partite Ora tornando invece Al tweet che vi stavo Dicendo prima Di quello globale Dove c'è gente Che ha chiesto Proprio pubblicamente A Brawl Stars Cosa potesse accadere A quelli che invece Era la connessione Che li faceva quittare Dalle partite Brawl Stars risponde Proprio in maniera Secca in questo modo Vi ho messo anche La traduzione sotto Per chi magari Non mastica bene L'inglese Come d'altronde Anche io Però vabbè Quelli sono dettagli In cui semplicemente Dicono Se con una connessione Che non è all'altezza Per giocare a Brawl Stars O che comunque Non è così buona Da poter giocare A un videogioco del genere Ti permetti Di giocare Alla Lega delle Stelle Rischi di rovinare L'esperienza A ben 5 giocatori Perché ovviamente Ok in realtà Il team avversario Ci gode pure Che tu laghi Quindi in realtà Più a 2 persone Che a 3 Che a 5 scusate Però comunque In generale Vai a rovinare L'esperienza A tutti gli altri giocatori Quindi Super Sai Non è che ti dice Non giocare a Brawl Stars Però effettivamente Non giocare Una modalità Che nasce Come modalità competitiva Più che altro Giocate altre competizioni Altre modalità Insomma Quindi in poche parole Brawl Stars Risponde in maniera secca Così Può aver ragione Non ha ragione Di sicuro è l'unica cosa Che può fare Perché a quel punto La gente per quittare dai match Toglie la connessione E quindi quitta dai match Togliendo la connessione E se Super Sai Grazie a tutti quelli Che quittano Per colpa della connessione Inizia a diventare Un po' un problema Diciamo che non si risolve Proprio il problema Quindi niente Raga Questo è quanto Non quittate più Le partite di Lega delle Stelle Solo perché magari Non vi piace A una determinata mappa Io già ve l'avevo detto Di non farlo da tempo Perché comunque Sapevo che prima o poi Supercell Prendevano decisione del genere Vi ricordo di utilizzare Il mio codice creatore GGYT Tutto attaccato In un shop di Brawl Stars E anche in tutti gli altri giochi Supercell Lasciando un bel mi piace Di iscrivervi al canale Se ancora non l'aveste fatto Per me è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi Grazie a tutti